Kemal ritornerà in liberta e fuori dal carcere troverà la sua famiglia ad attenderlo. Feime e Usain riabbracceranno il loro amato figlio e ci saranno anche Leila, Zeir e Asu ad accogliere Kemal. Soidere ritroverà la sua fidanzata e la rassicurerà con una carezza, basta piangere. La famiglia Soidere sarà pronta a tornare a casa per festeggiare, ma all'improvviso Kemal vedrà Nian ad aspettarlo poco più in là, la moglie di Emir si avvicinerà a Kemal con passi decisi, pronta a rivelargli tutta la verità riguardo al marito che ha rapito la loro figlia. In quel momento, però, Nian riceverà un video della sua bambina da Emir che intimerà a sua moglie di non parlare, altrimenti sarebbe un peccato per sua figlia. In lacrime, la donna sarà costretta a rinunciare a parlare con Kemal e dovrà raccontare una bugia a Leila che le rimprovererà di non lasciare tranquillo Kemal. La zia sarà molto dura con sua nipote, non c'è posto per te qui, dirà, invitandola a tornare a casa.